ciao sono luigi nella provincia di como e sono all'ottavo giorno di questo mini processo di nove giorni condotto da facilitato da raffaella e assistito da mary e mi sono trovato molto bene coccore è un posto magnifico per fare processi la natura è meravigliosa e accogliente e molto forte la casa è piacevole bella il gruppo in cui mi sono trovato è stato pure accogliente e presente con persone molto interessanti con cui scambiare informazioni oltre che appunto sostegno per me è stato una prima volta a sola acqua e mi ha stupito poter rimanere per così tanti giorni senza calorie e mantenendo uno stile di vita dignitoso energia alta possibilità di camminare per ore quindi mi ha fatto sentire più forte e a livello di coscienza mi ha reso più conscio di quello che che sono le mie i miei attaccamenti il cibo ad esempio i primi giorni avevo immagini di certi cibi che poi sono andate a dissolversi e mi hanno fatto capire quanto sono semplicemente cose passeggere i desideri e questa voglia di mangiare la facilitazione di Raffaella è stata meravigliosa mi è piaciuto veramente tanto sentirmi così seguito assistito mi sono sentito preso cura e mi si è aperto il cuore nel vedere la sua attenzione per tutto il gruppo ai piccoli dettagli di ognuno piccole patologie stati d'animo veramente una conduzione sapiente dal punto di vista emotivo fisico mentale dei pensieri e nonché proprio per me è stata una una gioia sentire la sua energia che sempre mi tirava su nei momenti in cui magari era un po stanco quindi lo consiglio è un bellissimo modo per darsi un tempo di riposo di ricarica e di auto osservazione